Professore D'Amico, al termine di questo anno scolastico, esibizione dell'orchestra dell'Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia di Racalmuto, di buon auspicio per il nuovo anno? Di buon auspicio, sì, speriamo che l'anno prossimo ci porti delle buone nuove, nel senso la possibilità di poter lavorare in serenità e di poter produrre ciò che altri anni abbiamo già prodotto avendo ottimi risultati anche fuori dal nostro contesto scolastico. Dal concorso musicale Città di Palermo sono usciti fuori i premiati due studenti di questo istituto e oggi erano qui ad esibirsi? Oggi erano qui ad esibirsi, sì, si tratta di due ragazzini di seconda media, c'è da considerare che veramente loro studiano nel nostro istituto da due anni, non studiano privatamente, tutto il risultato che hanno avuto lo hanno avuto semplicemente studiando all'interno del nostro istituto. Come diceva lei all'inizio di questo evento non sono stati due anni facili, soprattutto anche per coloro i quali si cimentano in attività musicale? Sì, perché come ho già detto è una materia molto pratica, per cui va da sé che se non ci si può vedere in presenza è veramente problematico poter lavorare nella serenità. Serve tanta voglia e passione come sempre? Voglia e passione, impegnarsi profondamente in qualcosa in cui almeno noi crediamo e cerchiamo di poter trasmettere ai nostri alluglie. Grazie. 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 Grazie.